Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto ERIZ 342X243. Questi tappeti sono realizzati nella Persia Nord Occidentale. Sono spesso di grandi dimensioni e molto resistenti, quindi perfetti in un ingresso o in un ambiente pubblico. La lana è tagliata da corta a media. Questo tappeto è considerato tra i migliori dei tappeti semplici prodotti in tutta la Persia. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 12 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.